Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, il ritorno di fiamma inatteso alla festa più importante, il gesto che non passa inosservato. Prima di procedere iscrivetevi al canale e attivate la campanella per restare sempre aggiornati. Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker non sono più coppie oramai da tanto tempo, ma ancora oggi i loro fans sperano tanto in questo ritorno di fiamma. D'altronde loro due insieme sono stati davvero la coppia più amata degli anni 90, entrambi giovani e belli, davano un vero e proprio esempio di amore fortissimo, che si è coronato in un matrimonio e in una meravigliosa figlia che hanno avuto insieme nel 1996, ovvero la loro Aurora. Nonostante nella loro vita ci fosse la piccola Aurora a riempire le loro giornate di luci e di colori, il loro matrimonio non ha superato una profonda crisi che hanno vissuto all'alba degli anni 2000. Per i loro fans fu un vero e proprio shock scoprire che avrebbero intrapreso due strade diverse e che quella figlia, da quel momento in poi, sarebbe stata l'unica cosa a tenerli uniti per il resto della loro vita, e non un sentimento di amore profondo che speravano di provare l'uno per l'altro fino alla fine dei loro giorni. Eros e Michelle non sono riusciti ad andare molto d'accordo per tanto tempo, ma negli ultimi anni si sono finalmente ritrovati e sono riusciti ad instaurare un rapporto di amicizia. In modo particolare, da quando il matrimonio di Michelle con Tommaso Trossardi è giunto a capolinea pochi anni fa. A quel punto, Eros e Michelle si sono avvicinati sempre di più fino a diventare buoni amici. E chi ha avuto la fortuna di essere invitato alla festa di compleanno di Aurora, che proprio qualche giorno fa ha compiuto 27 anni, ha potuto assistere a questa amicizia proprio da vicino. Infatti, al party della ragazza, erano presenti entrambi i suoi genitori. C'è stato un momento in cui Aurora ha fatto partire il karaoke e ha cantato la canzone per eccellenza della sua mamma e del suo papà, ovvero più bella cosa. A quel punto, mentre Aurora cantava, si è unito a lei suo padre Eros. A quel punto, Michelle ha assistito a questo momento da lontano, sorridendo emozionata nel vedere tua e delle persone più importanti della sua esistenza cantare insieme quella che da sempre è la sua canzone. Cosa pensate di Eros e Michelle? Un amore così forte eppure li ha divisi. La cosa più bella è che si siano ritrovati. Voi li riborreste insieme oppure devono continuare su questa via, restando ognuno con la propria vita? Fateci sapere nei commenti. Arrivederci al prossimo video.